I limiti esistono per essere superati! No, fermo, genio! Non esagerare! È pericoloso! Attento! Goku, Grini, voi avete insegnato a questo vecchio che poteva dare ancora molto. Sì, grazie al vostro esempio ho imparato che era troppo presto per arrendersi a quei limiti. Siete stati proprio voi due a non fermarvi mai, a puntare sempre più in alto, a insistere per andare oltre! È inutile la segna di... Salta giù dal ring! Ai miei allievi dico questo! Dovete muovervi bene, imparare bene, giocare bene, mangiare bene e riposare bene! Godetevi la vita e vivete sempre al massimo! Perché non salti giù? Che lo stile della tartaruga sia con voi! Ecco la più grande, la più potente... Ma come anche tu, Gannas, anche tu! Bravissimo, vecchio! Ottimo lavoro! No, non vecchio, lui è il genio delle tartarughe di mare! Che ti succede, genio? Non puoi tornare sul ring, è fietato dal regolamento! Aiutalo, Kakou! Genio! Hai un avversario, l'hai dimenticato! L'erati di mezzo! Genio! No, ti prego! Rispondimi! Apri gli occhi, genio! Apri gli occhi, ti prego! Forza, genio, riprenditi! Non ci puoi lasciare! Non ci puoi lasciare! Continua, Kakou, non smettere! No, genio! Ti supplico, svegliati! Oh, no, genio! Sei vivo! Sei ancora vivo! Mi... Dove sono finite quelle angiolette? Erano così carine? Oh, genio, caballo! Non ci posso credere, ce l'hai fatta! Meno male! Su, su! La battaglia non è ancora finita! Quindi ora aiutami ad alzarmi e muoviamoci! Cominciamo a temere il peggio! Ehi! Signore? Senti, il vecchio, come hai detto che si chiama in realtà? Ripetimelo ancora! Ormai credevo che fosse finito nell'aldilà! Sono solo che, come ti dicevo, ho visto un paio di angiolette molto carine! Sarà, ma secondo me te le sei solo sognate! Ha, 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 ha Grazie a tutti.